era l'aprile del 1880 mi trovai costretto a traslocare il mio padrone di casa aveva venuto la sua abitazione e il nuovo proprietario era deciso ad affittare ad un'unica persona il piano su cui si trovava la mia modesta stanza a lungo ne cercai un'altra ma senza successo stanco di cercare finii per prendere senza quasi neanche vederla una stanzetta al terzo piano di un edificio la cui facciata occupava una notevole porzione della stretta stradina laterale fin dai primi giorni la mia camera mi sombrò molto tranquilla dalle due piccole finestre i cui vetri listellati lasciavano indovinare l'età dell'edificio in lontananza oltre i tetti grigi e rossi oltre i comignoli funiginosi vedevo i monti azzurrini e potevo contemplare il sole al tramonto quando sfera arroventata si posava sugli orli evanescenti delle colline i mobili di mia proprietà che vi avevo fatto portare rendevano quello spazio ristretto più abitabile di quanto non avessi sperato e il portiere dello stabile che si era incaricato delle pulizie svolgeva il suo incarico al meglio le scale non erano troppo ripide e si andava su senza sforzo anzi quando salivo sovra pensiero mi veniva addirittura naturale per farla breve ero soddisfatto tanto più che nel buio cortile non giocavano bambini né suonavano organetti da allora sono passati anni i tempi di cui narro sono ravvolti nel crepuscolo del passato e i crudi colori degli eventi si sono sbiaditi e stemperati è come se parlassi di qualcosa accaduto ad un altro forse ad un buon amico non a me non per questo devo temere che il mio amor proprio mi induca a mentire scrivo in modo franco schietto e conforme al vero a quell'epoca non passavo molto tempo in casa alle sette e mezzo del mattino uscivo per andare in ufficio a mezzogiorno pranzavo in una trattoria a buon mercato e per quanto possibile trascorrivo il pomeriggio a casa della mia fidanzata sì, a quei tempi ero fidanzato Edwig, la chiamerò così era giovane, amabile, colta e, cosa più rilevante agli occhi dei miei conoscenti ricca discendeva da un'antica famiglia di commercianti che con parsimonia e laboriosità erano alla fine riuscite ad avere una casa frequentata di buon grado anche da giovani cavalieri nonostante l'ambiente distinto vi regnava infatti un'allegria spontanea che impediva alla noia di levarsi dalle tazze da te la figlia più giovane, Tedwig era inoltre la preferita da tutti perché alla sua cultura accoppiava una certa amabile leggerezza che rendeva interessante e stimolante la più banale delle conversazioni aveva più cuore e temperamento delle due sorelle maggiori era leale, allegra e... è in dubbio che io l'amassi posso parlare apertamente in seguito, un anno dopo la rottura del fidanzamento sposò un giovane ufficiale di nobili origini ma morì dopo avergli dato una figlia una frugolina dai ricci biondi era solito rimanere nella sua casa paterna dove ogni giorno si ritrovava una nutrita compagnia fin verso le sei del pomeriggio facevo poi una passeggiata andavo a teatro e rincasavo intorno alle dieci per ricominciare il giorno dopo con lo stesso ritmo di vita al mattino, quando scendevo lentamente le mie trarampe di scale nel lato del primo piano incontravo sempre il portinaio che puliva le piastrelle di pietra bianca salutava e avviava una conversazione sempre la stessa, giorno dopo giorno prima parlava del tempo poi mi chiedeva se ero soddisfatto della mia abitazione e così via al momento che il vecchio non la smetteva più gli domandavo sempre dei figli al che gli sospirava e a denti stretti prorompeva è una croce mi danno preoccupazioni, signore e con ciò era finita un giorno, un martedì tanto per dire una cosa qualsiasi chiesi informazioni su chi abitava accanto a me la risposta fu come la domanda detta senza riflettersi tanto una cucitrice, una poveraccia, deforme mormorò senza sollevare gli occhi dal pavimento questo fu tutto avevo ormai da tempo dimenticato questa informazione quando la incontrai la cucitrice come allora giustamente supposi nel buio ingresso del fabbricato era una domenica mattina avevo dormito più a lungo e stavo appunto uscendo mentre lei, un piccolo libro in mano probabilmente faceva ritorno a casa dalla messa una figura miserabile tra le spalle ossute coperte da un mantello verde scolorito che arrivava quasi fino a terra ciondolava la testa in cui risultavano subito il lungo naso affilato e le guance incavate le labbra sottili e leggermente aperte mostravano i denti ingialliti il mento era angoloso e sporgente in questo volto spiccavano solo gli occhi non che si fossero potuti dir belli ma erano grandi e nelissimi benché offuscati così nera che gli scuri capelli parevano quasi grigi so soltanto che l'impressione che mi fece questa creatura non fu affatto gradevole credo che lei non mi avesse guardato comunque non ebbi tempo di riflettere su questo banale incontro perché appena fuori del portone mi imbattei in un amico quel quale trascorsi l'intero pomeriggio anzi dimenticai affatto di avere una vicina tanto più che pure abitando porta a porta accanto a me era tutto silenziosissimo sia di giorno che di notte le cose sarebbero proseguite così se una notte per caso o come altro si voglia chiamarlo non fosse accaduto l'inatteso l'inimmaginabile negli ultimi giorni di aprile a casa della mia fidanzata era stato dato un ricevimento che a lungo organizzato e preparato si era svolto nel migliore dei modi protraendosi fino a notte inoltrata proprio quella sera avevo trovato Hedwig incantevole chiacchierammo a lungo nel salottino verde e con grande gioia l'ascoltai mentre con tono un po' ironico ma pieno di profonda infantile ingenuità si figurava la nostra vita familiare dipingendo nei colori più accesi tutte le piccole gioie e i dolori e rallegrandosi della nostra felicità come un bambino per l'albero di Natale un piacevole sentimento di Letizia mi empiva il petto col suo piacevole tepore e anche Hedwig ammise di non avermi mai visto così sereno del resto lo stesso stato d'animo pervadeva l'intera compagnia a un brindisi ne seguiva un altro fu così che ci separammo alle tre del mattino e a malincuore in strada le carrozze andarono via una dopo l'altra i pochi a piedi si dispersero presto in tutte le direzioni avevo una mezz'ora buona di cammino e così affrettai alquanto i miei passi tanto più che la notte d'aprile era fredda e nebbiosa ero assorto nei miei pensieri e quando mi trovai davanti al portone di casa mi sembra non fosse passato tanto tempo lentamente apri l'uso e con cautela lo richiusi alle mie spalle accesi quindi un fiammifero per illuminare il percorso dall'ingresso alle scale era l'ultimo salì i gradini a tentoni col pensiero ancora alle belle ore della serata trascorsa adesso ero su infilai la chiave nella serratura feci fare uno scatto apri lentamente là davanti a me c'era lei una fioca candela quasi del tutto consumata rischiarava miseramente la stanza che mi colpì con il suo odore di sudore e di grasso lei stava in piedi all'estremità del letto in una sudicia camicia semi aperta e con gonna scura non sembrava affatto stupita e si limitava a fissarmi senza distogliere gli occhi evidentemente ero finito nella sua stanza ma ero così confuso come immobilizzato da un maleficio che non pronunciai una parola di scuse ma nemmeno andai via so che mi nauseava eppure rimanevo vidi come si avvicinava al tavolo spostava di lato il piatto con i resti sparsi di una cena improbabile toglieva dalla sede i vestiti che si era levata e mi ordinava di sedermi con voce sommessa dicendo venga anche il suono di questa voce mi disgustava ma come seguendo un potere ignoto ubbidii parlava non saprei dire di cosa e in quella sedeva sul bordo del letto nella fitta oscurità vedevo solo il pallido ovale di quel volto e di tanto in tanto quando la candela quasi spenta si ravvivava i grandi occhi poi mi alzai volevo andare la maniglia della porta faceva resistenza mi venne in aiuto allora quando mi fu vicina scivolò e io dovetti afferrarla mi si strinse al petto e io sentii vicinissimo il suo caldo respiro mi diede una sensazione sgradevole volevo liberarmi ma i suoi occhi erano rimasti così fissi nei miei quasi questi sguardi stessero avviluppando attorno a me un laccio invisibile mi attirò sempre di più verso di sé sempre di più impresse caldi lunghi baci sulle mie labbra poi la candela si spense il mattino dopo mi risvegliai con la testa pesante dolori alla schiena e la bocca amara accanto a me tra i cuscini del letto dormiva lei il volto pallido e scarno il collo magro il seno piatto e sfiorito mi fecero paura ma zai lentamente l'aria pesante mi opprimeva mi guardai attorno il tavolo sporco la sedia logora dalle gambe sottili il fiore appassito sul davanzale della finestra tutto dava un'impressione di miseria avvizzimento lei si mosse e come in sogno posò la mano sulla mia spalla osservai quella mano le dita lunghe ossute con le sudice brevi e larghe unghie la pelle sui polpastrelli scurita e punzecchiata fu colto da disgusto per questa creatura saltai in piedi spalancai la porta e corsi nella mia stanza lì mi sentii meglio ancora oggi so che chiusi la mia porta col chiavistello giunsi a far questo i giorni tornarono a trascorrere esattamente come prima una volta sarà stata una settimana dopo mi ero già messo a letto quando per caso urtai il gomito contro il muro sentii che questo colpo involontario aveva avuto immediata risposta rimasi in silenzio poi mi addormentai nel dormiveglia mi parve di un tratto che la porta fosse stata aperta un attimo dopo sentivo un corpo che si stringeva al mio era lei passò la notte tra le mie braccia pensai spesso di mandarla via ma lei mi guardava con quei suoi grandi occhi e la parola mi moriva sulle labbra era terribile sentire accanto a me il tiepido corpo di quell'essere quella orribile donna precocemente invecchiata eppure non trovavo la forza qualche volta la incontravo nelle scale mi passava accanto come la prima volta non ci conoscevamo veniva da me molto spesso piano senza dire una sola parola entrava e mi teneva come incatenato con il suo sguardo ero senza volontà alla fine decisi di portermi nella fazzenda mi sembrava un diritto contro la mia fidanzata dividere il letto con questa donna che si stringeva a me con tanta invadenza senza poterne anche accampare il diritto dell'amore tornai a casa molto presto e subito chiuse la porta col chiavistello quando furono quasi le nove lei venne trovò la porta sbarrata e andò via doveva aver supposto che non fossi in casa ma non ne ero certo spostai indietro la pesante sedia della scrivania in modo piuttosto repentino questo doveva averlo sentito un istante dopo bussò non risposi ancora una volta poi con impazienza senza interruzione laudì ora a singhiozzare a lungo a lungo dovette trascorrere metà della notte alla mia porta ma io fu inflessibile sentì che questa resistenza aveva rotto l'incantesimo il giorno dopo la incontrai per le scale camminava molto lentamente quando le fui molto vicino alzò gli occhi trasalì in quegli occhi c'era un bagliore inquietante e una minaccia risi di me stesso dovevo essere proprio un pazzo una donna come quella la seguì con lo sguardo mentre con passo pesante posava i piedi sui gradini e scendeva zoppicando il pomeriggio il mio capo ebbe bisogno di me e così non feci come di consueto visita ad Edwig la sera quando tornai nella mia stanza trovai una lettera di suo padre che mi lasciò esterrefatto diceva nelle presenti circostanze lei capirà che mi vedo costretto con mio grande personale rammarico a rompere il suo fidanzamento con mia figlia ritenevo di affidare Edwig a un uomo libero da qualsiasi altro impegno risparmiare per quanto possibile ai propri figli esperienze di tal genere è dovere paterno e greggio signor Fonby lei comprenderà il mio comportamento come pure io sono convinto che lei stesso a tempo debito mi avrebbe certo messo al corrente della situazione quanto al resto sempre suo è difficile descrivere il mio stato d'animo amavo Edwig mi ero già abituato al futuro che lei stessa si era figurato così incantevole non riescivo a immaginare il mio destino senza di lei so che sulle prime fui sopraffatto da un violento dolore che mi empi gli occhi di lacrime prima ancora che avesse il tempo di riflettere a cosa fosse dovuta quella singolare ritrattazione perché singolare lo era in ogni caso conoscevo il padre di Edwig la coscienziosità e l'equità fatte persone e sapevo che solo un evento di rilievo avrebbe potuto risolverlo a un tale comportamento mi stimava ed era troppo assennato per farmi un torto non chiusi occhio tutta la notte mille pensieri si affollavano alla mia mente alla fine verso il mattino la stanchezza mi vinse al sisveglio mi accorse che avevo dimenticato di chiudere la porta col chiavistello ma lei non era stata da me trasse un sospiro di sollievo mi vestii velocemente in ufficio dissi che mi sarei assentato un paio d'ore e mi affrettai verso la casa della mia fidanzata trovai il portone chiuso e quando non vedi comparire nessuno nonostante avessi suonato più volte pensai che fossero partiti era facile che il portiere avesse da fare in cortile dove non sentiva il campanello decisi di ripresentarmi il pomeriggio alla solita ora così feci il portinaio aprì spallanco gli occhi stupefatto dovevo pur sapere che i signori erano partiti rimasi sbigottito ma feci finta di essere stato avvisato e dissi di voler parlare solo con Franz il vecchio domestico questi mi raccontò poi per filo e per segno che erano partiti tutti proprio tutti dopo che il pomeriggio del giorno prima si era svolta una scena singolare me ne stavo qui nell'ingresso così disse a pulire le posate quando è entrata una donna malandata e miserabile chiedendomi di condurla dalla signorina Hedwig ovviamente non ho ceduto le persone bisogna pur conoscerle prima a noi celante mi venne un pensiero insomma per farla breve proseguì il vecchio loquace al mio rifiuto ha cominciato a lanciare tanti di quegli strilli e quelle grida finché non è entrato il signore lei lo ha pregato dicendo che portava notizie importanti lui l'ha fatta entrare nel suo ufficio dove è rimasta per un'ora un'ora signore mio poi è venuta fuori baciando la mano al signore che aspetto aveva lo interruppi pallida magra deforme alta piuttosto alta occhi neri anche i capelli il vecchio continuava a chiacchierare io ne sapevo abbastanza tutte le parole di quella terribile lettera mi furono chiare impegni in me in me si agitava un amaro rancore lasciai il domestico e mi precipitai giù corsi per le strade fino a casa davanti al portone si erano radunate delle persone uomini e donne parlavano concitatamente e a voce bassa le scansai con maniere brusche poi tre piani di scale col fiato sospeso dovevo raggiungerla dirle non sapevo cosa avrei detto ma sentivo che al momento giusto avrei avuto le parole giuste incontrai degli uomini anche sulle scale non vi feci attenzione di sopra spalancai la porta mi investì un forte odore di acido fenico le dure parole mi si spensero sulle labbra era distesa sulle grigie lenzuola del letto con indosso solo la camicia la testa ripiegata all'indietro gli occhi chiusi le mani pendevano inerti mi feci più vicino non osai toccarla con le labbra spalancate e le palpebre livide dava la netta sensazione di essere ubriaca la brividì ero da solo nella stanza un freddo sole sul punto ormai di congedarsi illuminava il tavolo sudicio a sponda del letto mi chinai sulla donna sì era morta aveva il volto bluastro da lei promanava un odore sgradevole e mi prese una nausea un disgusto all'inno Grazie.